Ciao Michele, come stai? Oggi suonerò Rò chiuse con il capo. Ti piacerà? Buon divertimento! Ok, comincio? Buon divertimento! Buon divertimento! Ciao Michele, aspetta, 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 posso dire una cosa Michele, mamma? Oggi manderemo tutti ai comminciali una commedia speciale per un'altra musica speciale nell'audio speciale. Nell'audio del DJ Kappa! Ciao, bye!